Abbiamo superato la metà di maggio e il clima estivo è già alle porte. Molti cittadini hanno già inaugurato la loro estate con il primo bagno della stagione. Oggi andremo a scoprire insieme come si stanno preparando i bagnini per la nuova stagione balneare. È già un maggio ad alte temperature che invita tanti pesaresi e turisti alle spiagge. A che punto è l'allestimento di ombrelloni e lettini? Noi stiamo preparando i lettini, siamo pronti per il prossimo fine settimana. Almeno per quanto riguarda il mio stabilimento è operativo al 90%. Quindi salvo tempo cattivo, ma le previsioni sono ottime. Vediamo come prosegue il meteo. A partenza noi come tutti gli anni siamo sempre sullo stesso passo. Adesso stiamo finendo le file, aspettiamo giovedì o venerdì che ci facciano il riparcimento di sabbia. E per giugno, dal primo giugno, dato l'originale della stagione, si parte. Abbiamo già quasi montato tutta la spiaggia, mentre gli altri anni eravamo molto indietro e arrivamo pronti per la fine di maggio. Siamo a metà del lavoro, comunque siamo a metà maggio. Maggio è veramente caldo, è tanti anni che non era così caldo. I pesaresi vengono, si accontentano del lettino che comunque diamo a tutti. Da quest'anno non c'è più l'obbligo di distanza tra gli ombrelloni per il Covid-19. Vedremo spiagge più ristrette o manterrete comunque margini ampi? Sì, un pochettino sì, per poter recuperare un po' di spazio. Quegli ombrelloni che si sono venuti a mancare nell'arco degli ultimi due anni. E questo purtroppo a discapito degli albergatori. Quindi su pressione degli albergatori per poter dar servizio ai loro clienti abbiamo ristretto un pochettino, sempre nel rispetto delle misure regolamentari. Sì, non abbiamo ridotto le distanze perché comunque si è lavorato molto bene l'anno scorso, gli altri anni, nella zona praticamente nell'anno Covid. E non torneremo alle misure precedenti. Reputate l'erosione delle spiagge un problema critico per gli spazi disponibili? Per quanto riguarda noi è sempre un problema critico perché per quanto facciano questi ripascimenti, queste cose qui, non c'è mai la sicurezza che si arriva a fine stagione tranquilli. Purtroppo sì, abbiamo un litorale che non si capisce se è per colpa di correnti, se è colpa di scogliere, magari alcune messe bene, alcune messe male. A molti bagnini, anche a noi, da fastidio. A livello nazionale, ma anche locale, si parla di un aumento generalizzato dei costi di ombrelloni, lettini, abbonamenti. È anche il vostro caso? Sì, il nostro consorzio ha fatto un piccolo aumento che va intorno ai 30 euro a ombrellone, all'incirca, dai 20 ai 30 euro a ombrellone. Gli aumenti sono stati indiscriminati su tutto. Basti pensare che un lettino nuovo causa l'alluminio, l'aumento d'alluminio, delle tele in plastica e tutto, ha subito un aumento di circa 40-45 euro. Non è poco. Ci sarà un pochettino di aumento, 30-40-50 euro di aumento, ma non elevatissimo come tutti i prezzi che si è elevato. L'acqua, la luce, la benzina, il diesel, tutti gli aumenti. Anche qui abbiamo dato qualcosina di aumento. Nel mio caso no, siamo rimasti ai tariffi dell'anno scorso. No, ho fatto solo dei piccoli arrotondamenti, non ho aumentato chissà cosa. Ci siamo accordati su un piccolo aumento di 15-20 euro, ma nel totale, perciò si tratta di pochi euro. Sì, noi abbiamo fatto un aumento, ma soprattutto perché abbiamo fatto tutta l'attrezzatura nuova, sia ombrelloni che lettini, abbiamo fatto un grosso investimento, soprattutto anche a riguardo della Bolkestein, che nel 2024 non si sa come andremo a finire, però noi andiamo avanti per la nostra strada e diamo un ottimo servizio ai nostri clienti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.